ora che ellis ha compreso di non poter tornare nel mondo degli umani decide di restare qui e diventare una strega se ci si crede dal profondo del cuore chiunque può usare la magia è così che dimostrerà a tutti che essa serve a rendere felice la gente e lo farà con le sue sole forze ellis il grande potere che hai lontano ti porterà in un paese incantato dove il vuoto giù ti trascinerà in questo mondo da sola non sei e vescilla al tuo fianco avrai la magia a tua vita prenderà il trio twini witches nascerà una strega tu diventerai con le amiche in questo mondo sarai la legge imponente cambierai con le streghe tu vivrai l'amicizia e l'amore insegnerai con la magia tu ti aiuterai il segreto del passato scoprirai nel tuo presente c'è il potere twini witches twini witches e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non me ne ero ancora resa conto. Uno, due, tre e a seguire. Ah, Sheila! Che stai cercando di fare? Una magia che faccia voltare chiunque quando lo chiamo. Che sciocchezza. È che per quanto ti chiamassi continuavi a ignorarmi, Sheila. Chi sarà mai? Magia per rendere felice la gente. Io non accetterò mai una cosa simile! Vorrei che dessi una mano a Sheila. Darle una mano? Sai, mi fa talmente pena. È un tipo di fidente. Non si fida di nessuno, al di fuori di se stessa. Ah, forse questo non significherà esattamente aiutarla, ma... Ma cosa? Dimmi un po', Eva. Tu per caso l'hai mai vista sorridere? Eh? Credo di no. La cattura degli spiriti procede bene? Ma ero giusto sul punto di andare. Mi auguro che tu stia facendo il tuo dovere. Lo sai benissimo che è grazie a te se quelle là ci hanno soffiato il lavoro, no? Possibile che dobbiate dare sempre la colpa di tutto agli altri. Eh? Se vi hanno licenziate è solo perché non avevano alcuna fiducia nelle vostre capacità. Cosa? Bellis, come facciamo? Non ho mai visto scelta sorridere. Sì, sì, sì. Stupida strega apprendista. Chissà se avrebbe il coraggio di parlare così anche di fronte ad Atelier. Ti stava cercando, vuole incontrarti. Potevate dirmelo subito. Forza, muoviamoci. E voi da dove sbucate? Ciao, ciao! Insomma, smetti la scila. Anche se quelle due non erano molto simpatiche, non dovresti rivolgerti così alle persone. Sorridi, sorridi, sorridi avanti. Tre, due, uno, forza, sorridi! Bellis. Andiamo. Ora uso una magia, eh? Ghiri, 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 ghiri. Che stai facendo? Ma tu sei insensibile. È possibile che venga un gruppo di stregoni per catturare gli spiriti? Stregoni? A seguito di quell'incidente si sono accorti della fuga degli spiriti. Cosa sono gli stregoni? Ecco, gli stregoni è... dunque... Sono degli uomini capaci di usare la magia. Ma allora esistono anche delle streghe maschi. Ma essendo maschi non possono chiamarsi streghe. Forse dovrebbero chiamarsi streghe. Taci, ascolta! Per prima cosa, non dobbiamo lasciare che gli stregoni si impossessino nemmeno di uno spirito. E se le cose si mettessero male? Allora potrete anche attaccare gli stregoni. Eh? E come la mettiamo con la tradizione? Secondo la tradizione le streghe non dovrebbero mai attaccare gli stregoni. È vero, è una cosa assurda. Le streghe dovrebbero sorridere. I pentoloni dovrebbero servire a scaldare l'acqua e la magia dovrebbe servire a rendere la gente felice. Questa è una guerra. Come una guerra? Una guerra per difendere la tradizione magica che le streghe hanno da sempre tenuto in grande riguardo. Bene, d'accordo. Aspetta un momento, Sheila. Aspetta, fermati! A proposito, Ellis. È vero che il manuale di magia è stato fatto sparire dai Q? Sì, è vero. Ma perché quel libro è tanto importante e perché ce l'aveva mio padre? Ti prego, dimmelo, voglio saperlo. Ora devo andare. Sappi che non permetterò mai a Sheila di combattere. Farò di tutto per impedirglielo. Sheila, è assurdo! Ti prego, dimentichiamoci della guerra! Sheila! Per prima cosa non dobbiamo lasciare che gli stregoni si impossessino nemmeno di uno spirito. Se le cose dovessero mettersi male, allora potrete anche attaccare gli stregoni. Sheila, è possibile che... Stai indietro! Sheila, fermati! Che cosa vuoi fare? Uccidere o essere uccisi, questa è la guerra! Sheila! Sei tu! Ehi, ma tu sei Eva! Come sei cresciuta dall'ultima volta che ti ho vista! Che sciocca, sto scherzando! Scherzetto o gessetto? Davvero divertente! Ma dai, l'hai capita! Ma dimmi, chi sei? Ecco... Che sei venuta a fare? Oh, mi pare ovvio, no? Sono venuta a trovare la mia adorata figliola. Non voglio avere nulla a che fare con te, sparisci! Oh, guarda come sei diventata rossa! Che carina! Che tipo strano, chi sarà quella donna? Quella signora è la mamma di Sheila! Ah, dici davvero? In questo mondo, le streghe che non riescono a farsi una posizione, ma che non devono nemmeno andare nel mondo degli umani, si sposano con gli stregoni che abitano al di là delle montagne. Se nasce un maschio, resta a vivere nel mondo degli stregoni con loro, ma se nasce una femmina, viene separata dal padre che è uno stregone e viene a vivere nel mondo delle streghe. La mamma di Sheila si è sposata con uno stregone e ha abbandonato Sheila. È per questo che adesso non riesce più a sorridere. Tu dici? In tv ci sono parecchi programmi con storie simili, ma qui non li trasmettono, vero? Sheila, tesoro, ti ho fatto un dolce! Ho preparato un dolce squisito, sono sicura che ti piacerà, assaggialo! Cerca di smetterla, per favore! Guarda che è buono! Dimmi la verità, sei venuta qui perché ti sei lasciata con quell'uomo? Vengo, risposta esatta! Non per nulla sei sangue del mio sangue! Non pensare di poter fare qualcosa per me! Eh? Io ho fatto sempre tutto da sola e non ti permetterò certo di entrare nella mia vita adesso! Oh, ma non è come credi! E allora che vuoi? Sono venuta solo per vedere un po' mia figlia! Non è invece che tu? Beh, forse in effetti, se devo essere sincera, sei una spia degli stregoi! Sei venuta a vedere come vanno le cose, perché te l'hanno ordinato gli uomini! Forse stai esagerando! Sì, stai esagerando! Proprio così! Ti ho anche preparato un dolce! Silenzio! No! Lei è tua madre, giusto? Allora che male c'è se è venuta a chiederti aiuto? Tra genitori e figli ci si dà sempre una mano nel momento del bisogno! È vero, Ellis! Ha pienamente ragione! Sono d'accordo! Ti ho fatto un dolce! Assaggialo! È buono! È bello! Assaggialo! Silenzio! Altro che madre e figlia! E poi anche tu sei sola adesso! Immagino che vorrei vivere qui! Altro che darsi una mano a vicenda! Altro che madre e figlia! Se pensi che basti una torta, allora scordatelo! Non potrai mai vivere qui! Vado a catturare gli spiriti! Sheila! Che disdetta! La battaglia era già iniziata! E proprio vicino a noi! Non mi scapperai! Vai! Signora! Signora! Sta bene, ho avuto uno strano pretendimento! Un pretendimento? Forse vuol dire un presentimento! Ma allora sarebbe stato meglio avere un pretendente, non crede? Divertente! Te la capite! Già! E comunque che presentimento ha avuto? Chissà, forse deve essere successo qualcosa alla mia... Miniganna! Forse intendeva dire mia Sheila! A volte sembri l'imbranata delle coppie di comici! Ora che ci penso quel presentimento! Lasciami stare! Molla! Siete voi! No! Non è come pensi! Gli stregoni ci hanno rubato gli spiriti e abbiamo rischiato di morire! Anche gli stregoni stanno cercando di prendere gli spiriti, lo sai? Sì! Mi dispiace dirlo, ma faremo meglio a rinunciare, a dare la caccia agli spiriti! Noi non siamo in grado di affrontare gli stregoni! Che cosa stai facendo? Qualunque cosa noi diciamo, non ci ascolta! Per ringraziarti dell'aiuto ti dirò solo una cosa! Guardati dalle loro trappole! Devo stare attenta alle loro trappole! Cosa? Tu cosa ci fai qui? Beh, sai, tua madre mi ha detto che le è venuto un brutto presentimento! Mia madre? Tutto a posto, Sheila! Non distraetevi! Ci sono degli stregoni nascosti nei paraggi! Eh? Gli stregoni ce l'hanno con te perché hai quello! Eh? Vola! Verrà possibile che tu devi sempre fare così! Di nuovo! Guarda, ti è venuta una ruga qua! Sorridi! Sorridi! Che c'è da ridere? Comunque c'è un altro dolce per te che ha preparato tua madre! Torna a casa e mangia! Oh! Che male! Sarà una trappola degli stregoni! Ma no! Oh! Ma cosa ho calpestato? Come puzzi! Non avvicinarti! Meriteresti una punizione per averci dato tanto fastidio! Come si chiama lo spirito che ha fatto scappare? Eh? Non sarà stato... Che puzza terribile! È davvero insopportabile! Ah! Ah! Come immaginavo! Che cosa significa? Dove è andata? Chi è, Alice? È andata a farsi una doccia per cancellare quella puzza! Ah! Bisogna fermarla! Ah! Ah! Ormai è troppo tardi! Ma che succede? Ma allora il fatto che sia scivolata sulle ossa del gargo, il crollo del serbatoio e tutto il resto non sono avvenuti per caso? L'Oiali che ha lasciato scappare si attacca alla strega che lo ha salvato e continua a procurarle disgrazie! Eh? Finché quella strega non muore! Ma questo non ha senso! Colpa tua che continui a parlare della felicità della gente! Oh! Oostacolarci nella cattura degli spiriti! Oh! Accidenti! Ti sto dicendo che dovresti pensare un po' di più a te stessa! Faresti meglio a sparire una buona volta! E adesso, Alice, continuerai ad avere incidenti! Ora che ci penso, chissà se posso! Ma sì, certo! Certo che posso, ne sono assolutamente sicura! Fa' attenzione alle trappole, Eva! Oh no, ho paura! E' successo di nuovo! Guarda che faccia! Ecco perché non volevo farvi venire con me! E' vero, Alice! Avremmo fatto meglio a restare nella Dragon House! Se volete ridere, fate pure! Ah, ma certamente! Ecco! No! Ah! Alice! Che paura, che paura! Che paura! Meno male! Ehi, venite ad aiutarmi! Adesso arrivo! Ma dove vai? A quanto pare, questa è una delle trappole delle quali parlavano quelle del corpo speciale! Eh? Gli stregoni hanno delimitato un confine per fare in modo che noi streghe non potessimo fare nulla! Ma allora... Qui non si può volare e né usare la magia! Alice, non possiamo abbandonarla! Colpa sua che non mi dà mai ascolto! Come puoi dire ancora una cosa del genere? Sei di nuovo qui? Sì! E ci resterò fin quando non avrai capito! Ma ti rendi conto che lei lo ha fatto solo per te? Lo ha fatto per me? Quella ragazza si è attirata addosso la sfortuna per farti ridere! Eh? Dannazione! Ero in pensiero e sono venuta a dare un'occhiata! E come immaginavo, pensi solamente a te stessa! Che succede? Tutto a un tratto hai deciso di fare la brava mammina? Comunque, ti sembra giusto andare avanti così? Eva, portami una fune! Issa! 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 Razza di stupida! Hai sorriso! Ma che stai dicendo? Hai sorriso! Ti dico di no! Ti dico di sì! L'hai vista anche tu, vero Eva? Sì, l'ho vista! Sheila sorrideva! No che non sorridevo! Stai andando via! Pensa bene l'antidoto che ti ho preparato! Altrimenti la prossima volta rischierai di morire sul serio per la maledizione dello Yarely! Hai detto tutto! Hai detto tutto! Sheila, potresti almeno salutarla! Non importa! Credo che ormai non abbia più bisogno di me! Lo penso anch'io! Buon compleanno! Sono contenta che tu abbia trovato delle buone amiche! La tua mamma! Ormai non potrò nemmeno più diventare adulta! Se ne è già andata via! Sheila! Sentite! Vi va di mangiare una fetta di dolce insieme a me? Sììììììììììììììì! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Tanti auguri, Sheila! Tanti auguri a te! Ehi sì grande potere che hai, lontano ti porterà In un paese incantato, dove il vuoto giù ti trascinerà In questo mondo da sola non sei, lì vescilla al tuo fianco avrai La magia poi vita prenderà, il trio Twini Witches nascerà Una strega tu diventerai, con le amiche in questo mondo sarai La legge imponente cambierai, con le streghe tu vivrai L'amicizia e l'amore insegnerai, con la magia tu ti aiuterai Il segreto del passato scoprirai, nel tuo presente c'è il potere Twini Witches Twini Witches Il segreto del passato scoprirai, con la magia tu ti aiuterai Il segreto del passato scoprirai, con la magia tu ti aiuterai Il segreto del passato scoprirai, con la magia tu ti aiuterai Il segreto del passato scoprirai, con la magia tu ti aiuterai Il segreto della magia tu ti aiuterai